Prosegue l'attività sociale del Chivanis Club Parnaso di Canicattì, giovedì e venerdì al Teatro Sociale c'è questa commedia di plaudo. Sì, come ogni anno cerchiamo in questo periodo di realizzare qualcosa di bello, di divertente per i nostri cittadini. Indubbiamente la preparazione di questa commedia, diversamente alle altre, è stata una preparazione molto difficile e impegnativa in quanto abbiamo dovuto tradurre dal latino in dialetto siciliano questa commedia di plaudo, l'aulularia, che rappresenta sicuramente una tra le più belle commedie che l'autore ha scritto intorno al III secolo a.C. La traduzione è stata effettuata dal professore Antonio Scrimali che l'ha anche adattata ai nostri tempi perché non poteva essere diversamente. E quest'anno noi abbiamo proprio pensato di realizzare questo spettacolo per allietare in un momento veramente di grande tristezza per la nostra nazione, per il nostro paese perché noi viviamo a Canicattì, un momento di gioia per i nostri concittadini. L'ingresso sarà gratuito e libero, quindi chi vuole venire può venire. Noi speriamo di poter dare un momento di gioia e di felicità e, visto che siamo all'inizio di anno nuovo, di augurare un buon anno a tutta la cittadinanza. Grazie. I protagonisti saranno quelli del GAD? I protagonisti sono quelli del GAD. L'autore principale sarà Antonio Sanfilippo che farà la parte di Euclione, io farò la parte di Megadoro, un vecchio patizio romano che vuole sposare, anche se un pochettino avanti con gli anni, vuole sposare una ragazza anziché una donna di una certa età che ritiene lui che essendo un anziano, sposandosi con una giovane, la sua vecchiaia si può rinnovare e diventare lui ancora giovane come ai vecchi tempi. Comunque è una bellissima commedia fatta bene e noi speriamo di realizzarla attrettanto bene. Grazie.